Ho perso da dire, il tempo stringe, siccome ho avuto la sensazione di non essere ascoltata con attenzione, ecco un riassunto. Siamo troppi all'inverno e questo lo so, qui non c'è alcun ritegno, così non si può, ma c'è ancora speranza, li rieducherò al mio husband hotel. Scusate, ora vi spiego meglio, ecco lo sterminio. So che siete tenuti ad ucciderci e scommetto che odiate arrivare fin qui, ma se ci accoglierete non sarà più così, ogni cosa cambierà, ci sarà la felicità. Ho sentito abbastanza anche troppo per me, vorresti mandarli tra i cieli perché vuoi dannati più felici per l'eternità, ma dolcezza il loro fatto non cambierà. L'inferma è per sempre che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse perciò li burnirò, perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero, vivranno nel tormento e poi li sterminirò. Dai piccola basta, finiamola qui, io dovrei perdonare creature così, chi ha peccato è dannato e non cambierà, niente mai li redimerà. E c'è da dire che, penso anche a me, sono un angelo, un retto e un fidiente, ma sterminarmi è divertente. Questo è l'inferno che a te piaccia o no, e le porte sono chiuse perciò li burnirò, perché tutto è bianco e nero, togliamoci il pensiero, vivranno nel tormento e poi li sterminerò. Però cazzo sì, l'inferno una merda resterà, come fai a non saperlo, questo non cambierà. Ora calato attenzione, vi darò un'informazione, noi vogliamo anticipare lo sterminio di quest'orda infame. Cosa? Un anno per me è anche troppo perciò, vi do sei mesi e poi con voi mi divertirò. Aspetta, poi, sono... MEDE!